Abbiamo inaugurato un'importante partnership con il Salone del Libro, il Salone del Libro di Torino e il primo incontro sarà il 5, Saverio Costanzo terrà una sua masterclass lezione, ringrazio Nicola Laggioia, lo scrittore che è anche il direttore del Salone del Libro. Sarà una lezione sull'esterno e l'interno, quindi... E per noi è anche molto importante questo legame con la letteratura. Ed è importantissimo per il futuro il legame con i ragazzi, quindi con gli studenti, perché è lì, e lo vediamo anche dal grande dibattito che si è acceso sulla didattica a distanza, in presenza eccetera, è lì che dobbiamo rimanere, perché se perdiamo questa generazione di studenti, questi due anni, diciamo, perché ormai dobbiamo parlare di due anni, credo più o meno, tra difficoltà varie, beh insomma è una grossa perdita culturale, una grossa perdita, perché il nostro paese non avrà solo un'enorme perdita economica. A me preoccupa anche quello che nella nostra testa questo lockdown, questo covid produrrà, quindi dobbiamo nutrirla. Noi speriamo di farlo con il David. Infatti appunto il tema dell'edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, appunto il tema è vita nuova, quindi come il cinema, i libri, la letteratura, la cultura in generale ci stanno aiutando in questo periodo, che un po' si ricollega anche con l'accendere il fattore sogno nei ragazzi con tutti gli appuntamenti dei David e di Donatello. Sì, tra l'altro credo che sia una versione particolare, si chiami anche supernova, che è appunto il superlativo di Nova, perché tutti diciamo sarà un'altra vita, sarà diverso, non sarà più come prima. Ed è importante capire, intanto tenere acceso, come diceva giustamente lei, cioè tenere acceso la fantasia, il sogno, la possibilità di vedere storie meravigliose o anche storie difficili, ma di vederle raccontate, cioè di immedesimarsi in quello che si vede, di capire che dietro questa difficoltà, dietro queste rinunce, queste cose che ci stanno pesando, perché stanno pesando a tutti, beh c'è forse la possibilità di riflettere su come vogliamo, non dico rinascere, ma ritornare a sognare, a immaginare, a pensare.